Namaste amici ed eccomi qui di nuovo con un nuovo video. Allora in questo video voglio darvi qualche consiglio su quali cristalli potete utilizzare durante la meditazione. Per questo video ho scelto dei cristalli molto semplici e di facile reperimento ed in particolare dei cristalli che secondo me possono esserci di aiuto anche per collegarci al nostro Sé profondo durante la meditazione, quindi al Sé superiore, alle guide, agli angeli e agli esseri che abitano i reami oltre la barriera celeste, quindi angelici. Questo perché durante la meditazione possiamo anche ricevere ispirazioni profonde dal nostro Sé superiore, possiamo ricevere guida, messaggi, consigli e anche sostegno durante le nostre vite e per risolvere magari questioni che ci stanno a cuore. Quindi la meditazione può essere un potentissimo strumento non soltanto di ascolto interiore del Divino, ma anche di contatto e connessione con queste realtà sottili. Chiaramente i cristalli, come ho detto in altri video, ci aiutano ad amplificare le nostre energie, a sollevare, alzare e aumentare le nostre vibrazioni e quindi sono ottimi strumenti per meditare. Chiaramente vi consiglio prima di utilizzare i cristalli per la meditazione di purificarli, quindi di utilizzare i sistemi che preferite, l'acqua se la pietra sopporta l'acqua, il sale se la pietra sopporta il sale, oppure semplicemente l'incenso o la visualizzazione, il reiki, la pranoterapia, per pulire le vostre pietre e poi potete utilizzarle tranquillamente. Allora, le pietre che ho scelto sono delle pietre veramente di facile reperimento, come dicevo. Partiamo dalla più semplice, la metista. La metista ha una grandissima capacità di innalzare le nostre frequenze, appartiene ovviamente al raggio viola. Ho fatto anche un altro video sulla metista e quindi è ottima per la meditazione. Questa pietra lavora tantissimo con il sesto chakra, scusate, quindi il terzo occhio, l'intuizione, tutto quello che ha a che fare con la visione interiore. Quindi può essere veramente utilizzata per le vostre meditazioni, tenendola nella vostra mano ricettiva, quindi se siete destrorsi tenete la pietra nella mano sinistra, se siete mancini tenete la pietra nella mano destra. Però poi può essere diverso la vostra mano più ricettiva, ad esempio io sono destrorsi oppure ho come mano ricettiva la destra, quindi sta un po' a voi sentire quali sono, qual è la vostra mano più ricettiva. Oppure potete portare la pietra all'altezza del sesto chakra, oppure semplicemente porla dinanzi a voi quando state meditando. Quindi efficacissima, davvero. Induce uno stato di rilassamento profondo, innalza le nostre frequenze, pulisce la nostra aurea e ci collega veramente alle più alte frequenze della luce. Potete usare anche delle altre forme con la metista, ad esempio la sfera, come adesso si vede un po' sbiadita questa, però comunque con la metista, anche tenendo una sfera nelle vostre mani mentre meditate. Potete ad esempio portare le vostre mani in grembo tenendole così e mettete la pietra al centro delle vostre mani. Ok. Un'altra pietra molto efficace che lavora benissimo con la metista tra l'altro è la selenite. Ecco, ho già fatto forse un video passato sulla selenite. Questa bella pietra così luminosa che emana questi bagliori molto interessanti, molto belli, è una pietra che fa parte del regno dei gessi, quindi assolutamente è sensibile all'acqua. Se la mettete in acqua si scioglie. È però una pietra molto facile da reperire sia su internet sia nei negozi specializzati di minerali. La troverete in varie trasparenze, ad esempio io ne ho alcune come questa che sono abbastanza opache ma molto luminose e ne ho qualcuna che è anche molto trasparente, proprio completamente trasparente. È una pietra che è una delle pietre più importanti in questa nuova energia perché ha la capacità di pulire la nostra aura. Infatti viene utilizzata se abbiamo delle bacchette di selenite per pulirci completamente e lavora tantissimo con i chakra alti, quindi il chakra della corona e i chakra transpersonali. Durante la meditazione è lo strumento ideale per contattare il sé superiore e le guide. Quindi un altro grande alleato è la selenite. Un'altra pietra che io adoro, sicuramente l'avete vista su Facebook, è la celestina. La celestina si forma in queste famiglie, quindi è una drusa, si forma in famiglie di cristalli e quindi magari è un pochettino più scolo da tenere in mano, a meno che non avete piccoli pezzettini, e potete metterla in grembo, potete metterla davanti a voi. È una pietra che lavora tanto con il sesto chakra, non so perché oggi dico terzo chakra indicando il sesto, non lo so, vabbè. Comunque il sesto chakra, la corona e anche i chakra transpersonali, ci aiuta a entrare in contatto con le frequenze più alte pure e con gli angeli in particolare, quindi è ottima. Ed è anche una pietra fantastica per rilassare, portare pace nella mente, infatti ha un colore molto molto bello. L'ultima pietra che vi consiglio fa parte sempre della famiglia dei quarzi, questa volta una punta di quarzo, in questo caso nella configurazione a geometria sacra channeling, cioè un cristallo che ha una faccia grande con sette lati e dall'altra parte un triangolo perfetto. Può anche capitarvi di trovare una configurazione DAO, cioè sette, tre, sette, tre, sette, tre, ok? Quindi tre facce da sette lati e tre facce da tre lati a triangolo. Il cristallo channeling o il cristallo DAO, se avete la fortuna di trovarne uno, è uno strumento veramente potente nel lavorare con il sé superiore, nel connetterci al nostro interiore, lavorare con la visione interiore e canalizzare informazioni dalla nostra guida, dalle nostre guide e dal nostro sé più alto. Quindi è veramente uno strumento con cui meditare e lavorare quotidianamente. Io lavoro tantissimo sia col channeling che con il DAO, in questo caso, ne ho alcuni anche che hanno delle particolarità, ne ho uno anche postato su Facebook che è anche un deposito di memoria, molto bello. Questo in particolare è un Quarzo Arkansas molto bello, trasparente, che ho avuto la fortuna di trovare durante uno dei miei viaggi nei negozi di pietre. e devo dire che emana una bellissima energia. Detto questo, io spero che questo video vi sia stato utile, che sia stato interessante e namastè dal mio cuore al vostro cuore con infinito amore. Un bacio e al prossimo video. Ciao a tutti. Buone meditazioni. Grazie. 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 Grazie.